Carmen, diciamo che sei stata presentata davvero in una maniera incredibile da Gigi come un'artista che non solamente potrà avere successo in Italia, ma addirittura a livello mondiale. Senti, come stai vivendo la pressione anche per questo momento, per la finale? La pressione è alta, altissima, però io veramente mi ci affondo dentro e mi diverto di questa cosa perché è un'esperienza unica che non avevo mai vissuto. Ci tengo molto all'emozione, quindi non vedo l'ora di emozionare il pubblico, soprattutto me stessa e di far vedere a tutti quanto vale. Senti, com'è andata? Com'è stata l'esperienza? Quali sono stati i momenti dove hai sofferto di più il fatto di essere all'interno di un meccanismo tra l'altro così rodato e anche così complicato? Allora, ci sono stati dei momenti in cui ho sofferto, devo dire, perché ovviamente le scelte sono state ardua per Gigi perché ovviamente nel suo team siamo tutti bravi, forse nella battle perché la mia sfidante era molto molto brava e la saluto, ciao Sofia, però per il resto ho filato tutto liscio e non mi aspettavo ovviamente di arrivare in finale ma sono contenta così. Senti, ma diciamo che Gigi, quali sono stati i consigli che ti ha dato? Perché immagino che siano stati tanti, tra l'altro punta molto su di te, ha parlato di quattro bombe come le canzoni che presenterai in finale. Gigi, come me, ci tiene molto anche lui alle emozioni, quindi mi ha detto mi raccomando, dosa bene l'emozione soprattutto quello che canti e con la tua vocalità e mi ritengo molto affine a lui proprio per questo motivo. Grazie mille e buona musica!